a sedere dai finisci luca perché era interessante quello che stavi dicendo qui sai che ho letto la bibbia pensa mi sono cercavo la bibbia me la son letta tutta mentre facevi il tuo pezzo adesso per gli ascoltatori abbiamo un gadget una siringa con l'ebola si può iniettare nel collo davanti i blocchi di alba eh ma arriverai a milano ma c'è eh col cazzo eh col cazzo è un fole di merda c'è la bastard è tardi andiamo vai mi piace bastard inside là perché parlare da solo in auto mandaci un messaggio con la one up no? se anche tu hai scoperto l'indirizzo della radio di Miami batti le mani un'altra volta per la ventitresima di Miami tanto non entri poesia da Miami a Lisbona da Casablanca a Marrakesh è una vera maratona che va fatta per il cash ieri in radio solo un fischio e ci siamo sparati il best caro Marco che gran rischio per fortuna senza crash dell'aereo ma a me sembrava che volesse dire che nonostante che hai fatto lo spot e che andrà in televisione non cambierà mai un cazzo perché a voi non vi si caga nessuno comunque quindi Leone è stato molto chiaro molto pratico molto capibile ciao bastardi grazie ciao sono Stefano e anch'io faccio la spesa a New Winwood 25 sulla ventisesima ma vai a fa il culo muori compro i tacchi l'aspirapolvere e tante altre cose va bene Pippo che ci tira le polliciate sul culo alle donne ma non è vero minchia come è salito sul palco 30 secondi e una davanti proprio gli attira su non è vero il reggiseno gli fa vedere le tette minchia Wender tu te la sei persa proprio aia no mazzoli 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 posso giucciarti ti posso giucciare cosa? ti posso giucciare le tette mazzoli ma non c'ho le tette Wender mi ha fatto venire in cazzo così ti dirò mazzo barba merda gomblotto brigand 5 program tortuga jacks mazzo ricchio beh diciamo che ci siamo siamo in ritardo purtroppo non posso farvi sentire l'ultimo messaggio vi faccio sentire un accenno no 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 ci risentiamo ci risentiamo domani aspetta aspetta vai fai sentire no 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 senti guarda mi hanno chiamato sulla Rai 2 a fare due canzoni ma come so domani 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 con la leggenda del pilota barba merda scopriremo il suo canzolo grazie a Paolo Pippo la chicca il mago Wender Luca Alba Marco Dono amazzoli tutto ciao grazie a tutti